Beppe, era un'altra la risposta che ci aspettavamo nel campo d'Esse quest'oggi? Ma sì, ci aspettavamo una risposta diversa però non vuole essere una scusante. Dall'altra parte abbiamo trovato una squadra concreta, carica, forse ha tirato fuori maggiore cattiveria rispetto a noi. Però bisogna solamente riflettere e ripartire anche perché domenica ci aspetta la lupa Roma e dobbiamo ritornare a riprenderci quella vittoria che manca da qualche giornata. Beppe, il tema della cattiveria, non è un po' rischioso doverlo ritirare fuori quasi a metà del girone di ritorno quando ti stai giocando tanto? Faccio riferimento alla cattiveria di oggi, forse loro avevano qualcosa in più da questo punto di vista, non faccio riferimento ad altre partite anche perché questa è una squadra che ha sempre dimostrato di avere oltre al gioco anche la giusta, tra virgolette, cazzimma, come si usa dire in gergo campano. Quindi dobbiamo solamente ritornare ad essere noi, forse quello che non siamo riusciti a dimostrare oggi e speriamo di farlo prima possibile già da domenica. Una sconfitta che sicuramente avrà qualche vera ripercussione sull'entusiasmo della gente, il gioco forza. Ieri era arrivato l'appello all'unità da parte della società. Quando ci sono le sconfitte, le sconfitte bruciano, a noi poi la sconfitta mancava da un po' di partite, quindi brucia ancora di più. Però le sconfitte servono anche per ripartire, se sono costruttive in maniera costruttiva, bisogna riprenderla in maniera costruttiva e reagire. Io sono convinto che questa squadra reagirà nel modo migliore anche perché siamo tutte lì e ce la giocheremo fino alla fine.